sono gli ultimi led e allora ce ne andiamo partiti in vantaggio Nina Nonsei davanti a Night of Light, Savannah Peer e Liar Oile Oile all'inizio della curva passa Night of Light davanti a Nina Nonsei, Savannah Peer e Liar Oile Oile poco prima dell'ingresso indirittura è sempre in vantaggio Night of Light davanti a Nina Nonsei, Savannah Peer e Liar Oile Oile i cavalli entrano in dirittura con Night of Light in vantaggio lungo la corda davanti a Nina Nonsei, Savannah Peer e Liar Oile Oile prosegue in vantaggio Night of Light davanti a Nina Nonsei, Savannah Peer e Liar Oile Oile sempre in vantaggio Night of Light avvicinato da Nina Nonsei e Savannah Peer la centropista Liar Oile 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 e sempre in vantaggio Night of Light davanti a Nina Nonsei e Savannah Peer e a centropista Liar Oile Oile e sempre in vantaggio Night of Light davanti a Savannah Peer e Liar Oile Oile prosegue facile in vantaggio Night of Light davanti a Liar Oile Oile e Nina Nonsei e Perfetto! Perfetto!